194 anni dalla nascita di Karl Eirich Ulrichs, studioso tedesco dei classici e magistrato, nonché ufficiale dell'esercito prussiano. Fu un deciso sostenitore del diritto alla libertà sessuale, tanto da fare coming out di fronte al congresso dei magistrati suoi colleghi. Per il suo impegno civile legato al riconoscimento del diritto all'omosessualità, scrisse opuscoli e tenne comizi pubblici. Fu costretto ad emigrare dalla Prussia, giungendo in Italia e trovando ospitalità nel paese più tollerante, il regno delle due Sicilie. Invitato dall'aquilano Giovanni Antonelli, studioso di scienze anatomiche, scelse l'aquila come città dove vivere, frequentando circoli di eruditi e appassionati di cultura classica. Era il periodo di un rinnovato spirito classicista all'aquila e Ulrichs incarnò il cliché dell'erudito teotonico, come racconta lo storico aquilano Raffaele Colapietra. Fu amico del marchese Niccolò Persichetti che gli affidò l'educazione dei suoi figli e proprio accanto alla tomba della famiglia aquilana è riposta la lapide di Ulrichs, alla quale ogni anno attivisti ed esponenti della cultura e delle associazioni gay si incontrano per ricordare la sua figura, in occasione della sua scomparsa oppure per ricordarne la nascita, il 28 agosto. Nel cimitero monumentale dell'Aquila, la Fondazione Luciano Massimo Consoli ha organizzato domenica scorsa una commemorazione per celebrare il capostipite dell'attivismo e dei movimenti LGBT, così come avviene in contemporanea nel resto d'Europa e negli Stati Uniti. Ulrichs continua ad essere avvolto da un'aurea di mistero riguardo la sua vita e le sue scelte, tanto da incuriosire studiosi di tutto il mondo, a partire dall'americano Paul Nash che nel 1970 venne a conoscenza della sua storia consacrandone la figura. Tra gli scritti di Ulrichs si ritrovano argomenti che spaziano dalla classicità latina all'opposizione al disboscamento e alla vivisezione e non mancò di lasciare una descrizione in latino della perdonanza celestiniana del 1889.